È ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Cisanello a Pisa. Il 38enne è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto giovedì sera dopo le 21 a Santa Maria del Giudice. Per cause ancora in corso di accertamento, il giovane è stato travolto insieme alla sua compagna da un'auto, mentre la coppia camminava lungo la strada. Dopo l'impatto avvenuto all'angolo con la traversa quarta di Via Nuova per Pisa, all'altezza del Bar Ambrosia, l'uomo è caduto a terra e abbattuto con violenza la testa sull'asfalto. Il giovane, in condizioni apparse da subito disperate, è stato condotto in ambulanza al pronto soccorso del nosocomio Pisano, in stato di coma. La ragazza invece, sebbene visibilmente sotto shock, ha riportato lievi contusioni ed è stata trasferita al pronto soccorso del San Lucca con codice verde. Sul posto per i rilievi, gli agenti della Polizia Municipale.